ad over ci sono anche delle belle fontane però io penso che la cosa migliore sia quasi quasi venirse la godere in agosto luglio il loro cielo in novembre è una fontana no io sono praticamente la vasca noi tutti qua siamo la vasca che raccoglie che raccoglie l'acqua guardate come sono ridotto la in fondo un kfc che infatti fra i ciche immancabile non so neanche dove possa essere il mcdonald la in cima niente il loro grande castello la in fondo e quella è la via del centro da dove venivo